un saluto a tutti dal centro sportivo di milanello si è tenuta questa mattina alle 9 30 la conferenza stampa di mister stefano pioli quindi siamo arrivati davvero presto è stata addirittura se non sbaglio la prima volta di una conferenza di domenica qui alle 9 e 30 al centro sportivo di milanello chissà che possa portare anche bene questa cosa per il milan quindi la squadra si allenerà tra poco qui al centro sportivo rosso nero ci hanno detto che diversi giocatori hanno dormito qui a milanello altri sono arrivati poi nel corso della mattinata e addirittura molti giocatori sono arrivati molto presto come ad esempio zlatan ibrahimovic che è arrivato addirittura alle 7 45 quando l'allenamento e alle alle 11 questo vuol dire grande grande mentalità giocatore che comunque da sempre l'esempio un giocatore che può essere preso come esempio dai dai più giovani ed è questo uno degli degli elementi più importanti di zlatan ibrahimovic anche perché sappiamo che giocherà sempre meno da qui alla fine non è un titolarissimo come lo era una volta e lo ha detto anche stefano pioli in conferenza stampa su ibra ha detto ovviamente deve convivere con i suoi acciacchi deve comunque gestirsi però la presenza di zlatan per questo gruppo è troppo troppo importante in questa fase finale di stagione parliamo anche della conferenza di stefano pioli perché l'allenatore rossonero ha fatto un po il punto sui giocatori che ripeto dovranno ancora svolgere l'allenamento quindi sostanzialmente nel pomeriggio avremmo un quadro un po più chiaro anche sulla probabile formazione perché secondo pioli c'è ancora un dubbio di formazione a centrocampo noi crediamo sia sostanzialmente tra brain diaz e che si quindi nel ruolo di trequartista con benasser e tonali che dovrebbero essere i due centrali di centrocampo mentre messias e leao i due esterni della della trequarti con appunto questo dubbio tra che si e brahim probabilmente verrà sciolto il dubbio nel corso della della giornata pioli però ha detto che tutti i giocatori stanno bene fisicamente quindi anche chi è tornato dalla dalla dagli impegni con le nazionali ha dato il suo contributo in questi allenamenti lui ha avuto praticamente la squadra al completo da venerdì oggi è domenica quindi praticamente solamente due due allenamenti pieni con il resto del del gruppo e sostanzialmente la buona notizia è che tutti i giocatori stanno bene tranne lo sappiamo simon chier e quindi tutti i giocatori sono tornati anche motivati dalle dalle nazionali questo può essere un elemento in più per stefano pioli poi chi ha trovato la qualificazione chi purtroppo invece non è riuscito a qualificarsi con le proprie nazionali per i mondiali può essere comunque indicativo a livello di condizione mentale psicologica per questo rush finale dei rossoneri quindi tutti stanno bene questa è l'ottima notizia che ha dato stefano pioli in conferenza stampa nessun infortunato e poi ovviamente gli abbiamo chiesto anche di anterebic che molto spesso anche durante le nostre conversazioni qui come video parliamo della posizione di anterebic perché anterebic non viene schierato in altri ruoli come all'esterno destro o trequartista visto che comunque in quelle zone del campo il milano ha difetto un po' sostanzialmente segna poco a destra con messia ssl makers anche nella zona centrale della trequarti con brahim che addirittura viene messo in ballottaggio con che sì che non è proprio un trequartista allora perché non schierare rebic in quelle due zone del campo lo abbiamo chiesto a stefano pioli so che in tanti tifosi molto spesso ci chiedono questa questa cosa di rebic quindi pioli ha dato la sua versione dei fatti secondo pioli rebic a destra non si trova benissimo a giocare quindi sostanzialmente viene scartato come ruolo perché lui non non vuole giocare a destra non è non è non sente proprio la posizione di esterno destro mentre per quanto riguarda il ruolo di trequartista è pioli che non lo vede nel nella posizione di numero 10 diciamo così quindi sostanzialmente è l'unico ruolo in cui potrebbe giocare rebic o è la seconda punta oppure l'esterno sinistro della trequarti ecco perché sostanzialmente viene utilizzato come alternativa alle au e poi c'è un'altra cosa importante da dire lo stesso pioli lo ha sottolineato in conferenza che le partite grazie ai cinque cambi nel corso della gara si possono anche modificare appunto in corso d'opera ecco perché rebic può essere una carta che pioli potrebbe giocarsi nel secondo tempo non solo contro il bologna io parlo in in generale quindi sostanzialmente è il ruolo del croato è quello di essere in questo momento un'alternativa alle au e non invece un titolare nel nella parte destra del campo e di trequartista questo è sostanzialmente il motivo per cui rebic non viene messo nelle altre zone del campo era una curiosità o comunque un approfondimento che ho voluto fare con il tecnico rossonero proprio per capire la motivazione della scelta tattica sul croato su su ante rebic per quanto riguarda invece il resto della conferenza pioli ha detto che è il momento il momento più alto della sua carriera deve ancora arrivare questo dà comunque un'indicazione di come pioli guardi avanti con grande fiducia nel senso che lui dice è vero che ora siamo primi in classifica ma la parte più bella il momento più bello della mia carriera deve ancora arrivare e fa capire che vuole arrivare ad un ad un trofeo vuole arrivare primo alla fine del campionato vuole quindi cercare di ottenere qualcosa di importante in questa stagione e quindi lascia ben sperare per le ambizioni di questo milan pioli ha detto anche che ha visto una squadra lucida una squadra in forma un gruppo motivato dopo gli impegni con la nazionale quindi sostanzialmente vedremo un milan pronto e preparato contro il bologna che sarà sorretto dai 65 mila dai 70 mila spettatori che vedremo domani sera allo stadio san siro poi sappiamo sarà una domenica fondamentale perché giocheranno anche juve inter e atalanta napoli quindi capiremo in serata anche la classifica come verrà modificata da queste due partite da questi due scontri diretti e poi stefano pioli ha detto io non guardo sostanzialmente gli altri avversari è ovvio che vedrò le partite ma lo scudetto e la corsa al primo posto dipende solo dal milan ecco stefano pioli finalmente lo ha detto dipende solo dal milan dipende solamente da quello che fa la squadra rossonera tutto è nelle mani del milan tutto nel tutto il destino del campionato è nelle mani dei rossoneri e questo è la cosa più importante perché sostanzialmente se il milan riuscisse a vincerle tutte o comunque a tenere un vantaggio rispetto alle inseguitrici vincerebbe lo scudetto quindi c'è anche consapevolezza di quello che è il momento in casa milan è il momento in classifica e del campionato pioli ha detto ho visto una squadra pronta e anche al rientro delle nazionali quindi sostanzialmente sta preparando nel migliore dei modi a livello psicofisico questo match contro il bologna vedremo insomma perché ovviamente qui a milanello c'è anche tanto entusiasmo tanta tanti tifosi che stanno aspettando i giocatori che arrivano per firmare qualche autografo e tutto questo entusiasmo non è altro che energia in più per la squadra di stefano pioli per il milan che domani sera dovrà affrontare il il bologna per quanto riguarda la probabile formazione la elenchiamo rapidamente ma nel pomeriggio farò un video ancora con più approfondimenti al solito 4 2 3 1 con megnana tre pali calabria calulu romagnoli sarà nuovamente escluso perché il giocherà appunto calulu con tomori e teo hernandez quindi sostanzialmente si va verso una nuova esclusione di romagnoli con a centrocampo tonali e benasser sulla tre quarti messias e leao l'unico dubbio lo lasciamo ancora tra chessi e brendiez e lì davanti olivier girou perché la sensazione è che il francese in questo momento dia più garanzie anche a livello fisico e atletico e di continuità rispetto a slatan Ibrahimovic ci vediamo nel pomeriggio per tutti gli altri temi di giornata verso minan bologna